Una protesta a oltranza tutela dei diritti degli studenti e contro sprechi e ricatti. Questo lo slogan è lo striscione ben visibile all'esterno dello stabile di Via Gallo a Catania, luogo dove sorge la biblioteca Ursino Recupero, abitazione abbandonata nonostante una ristrutturazione che si è verificata pochi anni fa e che non può essere usufruita dai tanti studenti dell'Ateneo Catanese. Alcuni di questi, appartenenti allo studentato occupato 95-100, hanno scelto di occupare lo stabile affinché quest'ultimo possa tornare a vivere, per far sì che la condizione di abbandono cessi nel più breve tempo possibile. Noi, coerentemente con la nostra campagna dello studentato occupato 95-100, abbiamo questa prassi, cioè che i luoghi vuoti e che restano vuoti all'evidenza, se c'è un disagio abitativo specialmente di giovani e studenti in particolare, è legittimo che siano presi autogestiti dagli studenti. La nostra volontà politica è, per politica intendo, rispondere ai bisogni effettivi degli studenti e dei giovani e di avere dei posti aperti, funzionanti e vivi. Quindi siamo prontissimi al dialogo, ma nella consapevolezza che il nostro primario e unico interesse è quello di far vivere i posti, effettivamente qui ed ora. Non è una situazione che si è creata ieri, è una situazione figlia di politiche e di scelte e di tagli che comunque da anni si accumulano, soprattutto dal punto di vista universitario. È una condizione giovenile che da anni in realtà è in una situazione quasi emergenziale. Lo stabile di Via Gallo è solo una delle tante abitazioni state di abbandono nel suolo etneo. Quella della biblioteca Ursino Recupero potrebbe ospitare oltre 50 studenti universitari. Nonostante molte fondazioni, insieme a enti pubblici e privati, ricevono in donazione queste abitazioni, permane l'emergenza e non partono nuovi progetti. Il presidio dello studentato 95-100 all'interno dell'immobile è permanente ancora in corso, in attesa che arrivi una risposta dalla proprietà.